Ciao, un altro degli errori più comuni che fanno i ragazzi quando approcciano è quello di aspettare un segnale di interesse dalla ragazza, tipo di essere guardati o un sorriso. Ma la maggior parte delle volte le ragazze stanno molto attente a non mandare questi tipi di segnali. Cercano di essere il più neutro possibili perché molto spesso vengono approcciate però con i soliti modi, quelli che ormai sono banali e hanno stancato le ragazze. Quindi cercano di limitare i segnali di interesse per selezionare gli uomini un pochettino più coraggiosi, quelli che anche senza nessun invito vanno lì, tirano fuori le palle e vanno ad approcciare la ragazza. Ovviamente tirano fuori le palle è una metafora, non è un consiglio, quindi no. E soprattutto se tu dovessi limitarti ad approcciare soltanto le ragazze che ti mandano dei segnali di interesse, soltanto le ragazze che ti guardano e che ti sorridono per esempio, ebbè sarebbe un bel limite. Quindi se magari per strada vedi una ragazza che ti piace, ti piace veramente, ti piace da matti, è una delle ragazze più belle che tu abbia mai visto e quindi vorresti approcciarla ma lei non ti manda nessun segnale di interesse, che fai? Lasci stare? O aspetti, o cominci a pedinarla per cercare di vedere un suo segnale di interesse, cerchi di farti trovare negli stessi posti che frequenta lei, eccetera, eccetera. No, qualsiasi ragazza può essere approcciata in pressoché qualsiasi posto. Anche perché una denuncia per stalking non mi sembra sia un segnale di interesse. Assolutamente no. Ed è proprio per evitare questi problemi, per imparare a come approcciare qualsiasi ragazzo in qualsiasi posto, anche se sei davvero tanto tanto timido, abbiamo creato il nostro nuovo webinar. E tra l'altro la buona notizia è che potrai seguirlo in modo completamente gratuito in diretta, ma solo la diretta, perché la registrazione su Officina del Successo poi costerà 47 euro. Quindi se ti iscrivi per seguirlo in diretta e lo seguirai in diretta, potrai imparare tantissime cose molto molto pratiche sull'approccio, completamente gratis. Puoi non dire che non ti facciamo i regali di Natale, iscriviti, cerca il link qui da qualche parte e ci vediamo al webinar. Addirittura prima di Natale. Ciao!